Ciao a tutti ragazzi, volevo farvi un piccolo video in caretta che ieri hanno fatto l'annuncio sulla fase 2, cioè nel senso che dal 4 maggio potremo uscire, però ovviamente non sarà un via libera a tutti, però potremo uscire, potremo fare passeggiate, sport senza fare assemblamenti e così via, per la sicurezza sanitaria e per evitare la diffusione del virus. Si è tutto specificato in date, nel senso che una settimana si fa questo, una settimana dopo si fa quello, il 18 dovrebbe essere una riapertura totale dei negozi di abbigliamento, parruccheria e centri estetici. Allora il problema è che in queste date qui il governo non pensa che, soprattutto per le attività economiche, nel senso che queste attività qui non riapriranno più, cioè sono da due mesi, anzi il 18 sono già due mesi e mezzo, se dovessero riaprire il 18, se no c'è chi dice anche a giugno a giugno, ma il problema qual è? Il problema è che non riaprono più, loro dicono di riaprire, loro non riaprono più perché non hanno più le possibilità economiche per poterlo fare. così come albergatori, il settore del turismo per esempio, per esempio è consentito che si sta molto facendo discutere la possibilità di spostarsi, se ho capito bene, anche fuori dai comuni, nel senso che se uno abita al comune di Ediravenna può andare anche fuori dal comune, tipo può andare Faenza e Lugo, però per esempio non puoi lasciare la tua regione, quindi se tu hai una madre o un fratello fuori, come nel mio caso, che io ho una sorella fuori regione, cioè dall'altra parte d'Italia, io non posso andarla a trovare per un po', quindi è una cosa che ovviamente non ha senso, perché se uno fa le cose in sicurezza, con le dovute precauzze, tutto sta nella sicurezza, prima si facevano le cose senza la sicurezza e quindi è successo quello che è successo, ma la colpa non è nostra, la colpa è della nostra cattiva informazione, cioè nel senso noi ci hanno informati dicendo ovviamente sempre da esperti, dicevano non è un'influenza, in Italia non arriverà, la gente può stare tranquilla, può fare quello che vuole ed i problemi non ce ne sono, tanto è solo un'influenza, la gente preparisce e infatti è arrivato questo, sono arrivati i morti, sono arrivati i problemi, è quello che è successo, è questo qui, è successo che tutti questi problemi che vedete è per una cattiva informazione da parte delle persone, per esempio a Menian ha detto, o a chiunque ha detto, ah non vi preoccupate, soprattutto il sindaco della Lombardia ha detto che ovviamente i casi più gravi sono verificati a Bergamo, nella zona di Berescia, nel nord d'Italia, infatti le regioni del nord, soprattutto la Lombardia fu stata la prima, ma il problema qual è stato? Il problema è stata la cattiva informazione, il sindaco della Lombardia, c'è proprio un video che se uno va su Youtube e va sulla pagina di fanpage sta circolando un lockdown fase 1, cioè un riassunto di tutta la storia di quello che è successo nella fase 1, tutta la storia, come sono avvenuti i casi, i problemi e così via, io ho visto questo video qua del lockdown fase 1, tutto quello che è successo fino ad arrivare al decreto finale che ha paralizzato l'Italia per due mesi e verrà sbloccato il 4 maggio, che verrà sbloccato in parte. Il sindaco della Lombardia ha detto che quando sono stati questi primi casi ha detto che sono un'influenza, non vi preoccupate, l'Italia non deve stare preoccupata, così anche alcuni scienziati, alcuni tecnici scientifiche, sono una normale influenza, non è così grave, come dicono e la gente andava per ignoranza, infatti soprattutto nella zona di Milano dove c'è un via vai di persone, sono stati i campionati di Champions, la moda, ovviamente è chiaro che Milano era la zona più trafficata, c'erano un sacco di eventi e la gente lì praticamente era una bomba epidemiologica, cioè da lì è scoppiata l'epidemia per colpa della Lombardia, perché era fatto le cose non in sicurezza, era una bomba batteriologica, epidemiologica e infatti è successo questo e quindi nessuno sapeva con certezza cosa succedeva realmente negli ospedali, soprattutto negli ospedali della Lombardia, infatti il sistema lombardo, sanitario lombardo ha rischiato il collasso perché avevano tante persone in terapia intensiva che se il qualche governo non metteva un freno a tutto questo sarebbe scoppiato il caos, cioè loro i governatori, i governi e le regioni pensavano all'interesse economico della situazione, nel senso se io chiudo l'Italia rischio una crisi economica perché le aziende chiudono, non prendono i soldi e lo Stato dovrà dare liquidità e loro hanno pensato a questo, pensiamo all'interesse economico, lasciamo perdere l'influenza, tanto è una cosa passeggera, noi andiamo avanti così, facciamo le zone gialle, le zone rosse e così via, nel frattempo ma la gente ovviamente non è intelligente, se noi avessimo chiuso per esempio l'Italia prima, per esempio nel mese di 10 gennaio, questo virus è già da un po' che gira qui e praticamente il virus diventa più letale perché se più questo virus è contagioso, più contagia le persone e più questo virus si potenziano, diventerà più forte, infatti ha raggiunto una potenza straordinaria perché l'Italia fu il primo paese a essere europeo, cioè a essere colpito da questo virus, gli altri Stati si sono piano piano gli altri Stati europei, la Germania, la Spagna, magari alcuni in forma minore tipo la Grecia per esempio, non è così che grave, la Bosnia, non c'è tanta epidemia, c'è la situazione, ovviamente tutto il mondo è sotto controllo, adesso infatti questa influenza si è spostata negli Stati Uniti, negli Stati Uniti dell'America, che lì la situazione è abbastanza grave, anche perché in America hanno un sistema sanitario molto diverso dal nostro, cioè le persone poi fanno anche un tipo di alimentazione abbastanza diversa, poi c'è tutto un discorso particolare, allora il segreto è fare le cose in sicurezza, io per esempio voglio andare a trovare mia sorella, che per esempio abita in Sicilia, che ovviamente è dall'altra parte d'Italia, è molto fuori regione, io non lo posso fare, però il governo dice tu puoi andare a trovare i tuoi parenti, i tuoi zii, però non puoi fare una specie di festa, ci possono stare un tot il numero di persone, ma com'è possibile? Come fa il governo a stabilire? Tu puoi andare a trovare il tuo parente, ma non si possono stare un numero di persone, quindi secondo loro la polizia dovrebbe andare in casa e in casa dal 4 maggio a controllare, in quanti siete? A noi siamo in 5, in 5 siamo tanti, perché per esempio ci vorrebbe un castello per non fare il sovraffollamento, le persone dovrebbero abitare in un castello, di castelli in Italia ce ne sono, ma non ce ne sono, non è che ogni cittadino ha un castello, una villa, e quindi per esempio in una casa di una persona normale non sarà molto grande e ne è molto piccola, dipende dall'abitazione, quindi in 4 praticamente, per esempio se io vado a trovare mia nonna, siamo in 4, siamo tanti, siamo già in sovraffollamento, quindi non si può fare, quindi il governo mi dice di fare una cosa e allo stesso tempo me la chiede, ed è una cosa strana, perché è chiaro che in famiglia ci conosciamo già tutti quanti, è chiaro che se uno so che ha preso il virus e che sta bene, lo posso andare a trovare, faccio le cose in sicurezza ovviamente, facendo una cosa mascherina, con i guanti, mi lavo le mani spesso, dovremmo un po' cambiare le nostre abitudini sanitarie, di igiene, di pulizia, così, ma tutto questo è ridicolo, perché gli stessi scienziati che ci dicevano che non è niente di grave, adesso ci dicono che è grave, e c'è qualcosa che non va, Conte si basa su dati tecnici e scientifici da persone che ci dicevano che non era niente di grave, e adesso ci dicono che è grave, cioè ci dicono una cosa, poi te lo dicono un'altra, poi il governo ti dice per esempio, ti dicevano, non puoi farti, puoi fare una passeggiata fuori di un raggio di 50 metri, le regioni ti dicono di no, perché le regioni sono anche un po' indipendenti, per esempio la Liguria, ho visto un video, fa delle cose che il governo ti dice di non fare, per esempio fare le passeggiate di bicicletta, ma le fanno già oggi, noi però in teoria cominciamo dal 4 maggio, però per esempio qui in Romagna adesso c'è il take away, nel senso che il take away consente di prendere il cibo da sporto, non è più come prima, che prima dovevi chiamare, te lo portavano a casa loro, tipo una pizza, veniva la pizza espresso, lo scooter e ti portava il cibo, adesso lo puoi fare anche te, però è chiaro che ovviamente non puoi fare il sovraffollamento, entreranno una persona alla volta, però puoi andare tu di persona a prenderlo, così come le pasticcerie, come le gelaterie e così via, allora, tipo i bar per esempio, i bar perché non possono fare il caffè da sporto, se tu entri in una tabaccheria per comprarti un pacchetto di sigarette, non capisco perché in un bar non puoi prenderti un caffè da sporto, i caffè si possono vendere anche da sporto, ti prendi per esempio io voglio un caffè, lo consumi in macchina per esempio, no ti prendi un caffè in macchina, se no ti siedi su una panchina, ti prendi un caffè, cioè perché non si può fare, cioè non è che Conte gli dice noi il primo giugno riapriamo i bar, il primo giugno il bar può essere che non riaprono più, perché? Perché non hanno più la possibilità per poter aprire, e ci facendo discutere, quindi le palestre, le palestre a Ravenna siamo pieni di palestre, palestre nuove che sono state aperte per esempio da poco, no? E rischiano di fallire, perché hanno dei debiti, hanno delle spese da mantenere, poi dovranno, mi sembra, montare delle attrezzature, che avevo già parlato in un video un po' eccedente, però ancora non c'è niente di definitivo, un video, cioè delle attrezzature per disinfettare l'aria o dei termoscanner, dovranno scannerizzare le persone, perché è chiaro che le palestre, no? Quando una fattività fisica tira fuori molto alito dalla poca, no? E quindi è chiaro che c'è più possibilità di contagio, no? Poi è chiaro che quest'anno, per esempio, io che chiamo, che sto facendo questo video dalla Romagna, non si faranno più i party, no? Tipo i balli alla sera, o se no, tipo i balli tipo i balli lattini, certe scuole di ballo, quest'anno penso forse non lo faranno più, adesso non so le scuole di ballo come si organizzeranno, però anche lì per esempio rischiano di fallire le scuole di ballo. Noi dalla Romagna, cioè durante l'estate, alla sera eravamo abituati ad andare nei bagni, tipo al BB King, o al Calip, c'erano delle scuole di ballo, che adesso non faccio i nomi per non fare della pubblicità, però c'erano delle scuole di ballo, come ce ne sono tante, e quest'anno non si faranno, poi quest'anno il modo di andare nei bagni sarà molto diverso. Però ecco, la cosa che preoccupa sono gli albergatori, quelli che gestiscono gli alberghi, e lì sono in crisi pazzesca. Conte ha parlato che ovviamente per una questione di sicurezza, poi certi sindaci sono in contrasto, perché ovviamente se tu fai le cose in sicurezza puoi fare quello che vuoi, però è chiaro che non sarà come prima, per esempio i viaggi tipo all'estero non si faranno, tipo sono vuole andare in Grecia, vuole andare in Africa, vuole andare, non lo potrà fare, però potrà fare i viaggi nella penisola italiana, nella penisola italiana sono tante cose belle da vedere, anche a me mi piace, in quest'estate mi piacerebbe fare un viaggio, andare a trovare mia sorella, andare a Salerno, o da qualsiasi altra parte, dal sud Italia per esempio, in Puglia e così via. Quindi se uno fa le cose in sicurezza può far tutto. Quindi io penso che se una persona è, come dire, è negativa, però perché non facciamo così? Noi, se uno vuole fare un viaggio, no? Si può fare un tampone, dichiara, tipo, può immaginarsi un'autocertificazione, una dichiarazione di essere sani, no? Io faccio un tampone, dichiaro, questa persona è negativa al coronavirus, può viaggiare, se è negativo lo può fare, può andare un po' dove vuole, però è chiaro che lo dovrà fare in sicurezza. Quindi ecco, tornando, se non è che il 18 maggio riaprono questi, bisogna vedere se queste persone possono riaprire, preoccupano oltre le strutture alberghiere e gli alberghi, no? Quest'anno è un disastro, cioè gli alberghi fanno il business d'estate, anche adesso per Pasqua, io non so quanti soldi ci abbiano rimesso, ci hanno rimesso un sacco di soldi, e bisogna vedere se hanno le possibilità per poter ripartire in sicurezza. È una cosa uccinante, l'Italia non si sa neanche se riesce a riprendersi, poi a parte che c'è un danno anche a livello psicologico, le persone sono molto, ed è presso, no? Queste paura, questa crisi, e così via, è un danno un po' in tutti i sensi, non è solo un danno economico all'immagine, è rilanciare il turismo. Adesso dobbiamo pensare a tirare su gli italiani anche, no? In un senso psicologico, no? Occorre anche un sostegno, perché per esempio, se una persona vuole viaggiare, è chiaro che quella persona avrà paura di viaggiare in sicurezza, magari non vorrà neanche farlo, e questo sarà un danno ancora peggiore, magari potrebbero, che ne so, il primo di giugno, ci sono le vacanze estive, no? Infatti c'è Franceschini, è un politico del PDL che voleva incentivare il turismo, magari nelle zone, per esempio adesso che arriva l'estate, nelle zone balneare, no? Tipo la Liguria, tipo la Campania, la Puglia, così, le zone in cui la gente vorrebbe spostarsi, farsi un viaggio. Poi è chiaro che per esempio quest'anno è un disastro, con i treni, con gli autobus, con la Flixbus, per esempio, dovrà lavorare in modo diverso. L'Arianair è una compagnia di viaggi che quest'anno rischia il fallimento, perché loro non si sanno come attrezzare i loro aerei, no? I loro aerei sono molto piccoli, sono molto stretti e quindi la situazione potrebbe richiedere dei problemi. l'Arianair avrà delle difficoltà a viaggiare e questo, ragazzi, è un danno, cioè sarà comunque un danno, un danno economico. E così, insomma, io e ringrazio di questa attenzione, di questo video che ho fatto, ma per esempio anch'io, cioè per me è stato un dramma, perché per esempio tutte queste cose sono successe, cioè troppo in fretta, cioè per esempio, io per esempio nella mia vita, no? Di una vita, cioè di qualsiasi persona, di qualsiasi persona si è pianificato di cosa voglio fare quest'anno, io quest'anno voglio fare questo, voglio fare questo, voglio fare quest'altro. E dietro di me c'era una bomba epidemiologica che stava scoppiando, io non lo sapevo, cioè c'era un'altra, un'altra nascosta. Andate, ho visto che delle persone si sono collegate adesso, andate su YouTube, su fanpage, c'è lockdown fase 1 e lì vi spiega come sono andate realmente e cose. Io penso che se questa situazione fosse stata gestita prima, nel miglior modo possibile, noi a quest'ora non eravamo ridotti così, cioè la colpa non è nostra, perché molte persone incolpano gli italiani perché ci è stato insegnato di fare così. Quindi se una persona mi dice di non preoccuparmi, è che in realtà ti ha nascosto qualcosa, perché guardate cosa è successo, i morti, c'è le persone che piangono. Praticamente noi, è come se fossimo in guerra. Questa è una terza guerra mondiale, solo che non si combatte ovviamente con i mitra o con le pistole, si combatte, c'è un virus che ci sta facendo la guerra, venuto dalla Cina. e quindi è una guerra batteriologica, questo virus si sta uccidendo, sta uccidendo tutto il mondo e quindi è come se fossimo in guerra, è un altro tipo di guerra. Comunque io non ero abituato a tutto questo, perché per esempio io volevo fare quest'anno, mi ero programmato di fare tante cose, non le posso fare. Poi improvvisamente, adesso la data non me la ricordo, mi sembra che fossero a metà marzo, tra il 14 e il 15 marzo, arriva un decreto legge io resto a casa, tutto quello che volevi fare tu oggi non lo puoi fare, la cosa che devi fare è stare a casa. Ci hanno detto di fare così e intanto facevano i decreti, nel senso chiudiamo la Lombardia, facciamo la zona rossa, facciamo la zona gialla, facciamo questo, facciamo quell'altro, non è servito a niente. Quindi se tu vuoi fare una cosa, la fai subito, falla subito, non fare tutto così, faccio questo, poi domani faccio quello, poi dopo domani faccio quello e intanto il virus ha avuto modo di espandersi, perché non è servito a niente, cioè fa fare così, facciamo le zone rosse, facciamo le zone gialle, te dovevi chiudere tutto a gennaio, te a gennaio qui devi tutto, ti devi chiuso fino al primo di marzo, te il primo di marzo riaprivi e le cose tornavano a posto. Peccato che è avvenuto in un momento in cui ci sono le vacanze, in cui la gente vorrebbe andare al mare, anche a me piacerebbe adesso uscire, visto che sono delle belle giornate, e io me ne devo stare in casa, al massimo posso uscire e farmi una passeggiata nel raggio di 50 metri, che poi lì non si capisce, perché per esempio il Veneto, la regione Veneto, lì sono già alla fase 2, ma sono già alla fase subito, perché dopo lì il governo ti dice una cosa e le regioni ne fanno un'altra, a Romagna decide di fare una cosa, il Veneto ne decide un'altra, la campagna non si può fare niente, la cosa che devi fare è stare chiuso in casa. Cioè ragazzi è una cosa impressionante, io ho sofferto, nella mia esperienza farò un video che adesso non sto a fare adesso, ho soltanto parlato delle conseguenze di questa cosa secondo il mio punto di vista, io ho sofferto insomma, ho sofferto molto, mi auguro e spererò che non si recapiti mai più una roba così, comunque farò un video in cui spiegherò anche le mie sofferenze, cosa veramente ho sofferto. Va bene ragazzi, io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.